Record Cosmos dal largo dello schieramento, assume il comando ai suoi fianchi, Roxy RR veloce dalla seconda fine, in seconda posizione Renzo Di Biel, Roxy RR prova a scendere davanti a Renzo in seconda posizione, Renzo si oppone. 15 in lancio, Record Cosmos Renzo Di Biel, Roxy RR in terza posizione a precedere Roby Regal, a largo Regan B, primo quarto in 36, andatura sollecita, si mette a tirare Record Cosmos e Palumbo è costretto ad andare. Lo segue da vicino, ma molto da vicino, Renzo Di Biel, prova dalle retrovie a farsi notare Rania Griff, è ancora a circa 30-40 metri dalla testa, 44-8 addirittura ai 600, Roxy RR dopo la buona partenza sembra in bolletta e Regan B la scavala. 1-1 gli 800, record Renzo Regan B, chilometro in 17-1, Renzo Di Biel cerca l'aggancio al leader, si avvicina Regan B, ci prova anche Rosellina dalle retrovie, tre quarti di miglio in 1-33, prova un altro a lungo Record Cosmos, ma Regan B e Rosellina si avvicinano a larghe falcate, è fermo Record Cosmos, Regan B l'ha già superato, poi Rosellina e Renzo Di Biel, ultimi metri di gara con Regan B che se ne va per proprio conto, mentre per il secondo Rosellina precede Record Cosmos, 5-8-6 e l'arrivo probabile ed ufficioso, media di 1-18-2, per Regan B che parte piano, viene a largo, se la costruisce il toss-out di Antonio Ioni, e va a concludere netto nelle mani di Antonio Esposito, al secondo la sempre d'utile regolarissima Rosellina, che precede Record Cosmos, purtroppo scatenato al comando.